In una lettera scritta a due sue figlie spirituali in data 31 maggio 1918, padre Pio scrisse le seguenti parole. Le anime più afflitte sono le predilette del divino cuore di Gesù e tu puoi essere certa che il Signore ha scelto la tua anima per essere la beniamina del suo sacro cuore ed in questo cuore tu devi nasconderti, in questo cuore devi spogare i tuoi desideri, in questo cuore devi vivere i giorni che la provvidenza ti concederà, in questo cuore dovrai morire quando il Signore vorrà, in questo cuore io ti ho riposta, in questo cuore tu sei, vivi e ti muovi. Che belle queste parole di padre Pio, che ci fanno capire come ogni cristiano debba vivere in comunione con Gesù. E proprio sulla comunione con Cristo verte la testimonianza che sto per raccontarvi. Un giorno il sacrista di San Giovanni Rotondo si era scordato di fare consacrare le particole per la comunione. Nella Pisside ce ne erano rimaste davvero poche, pochissime, sicuramente non sarebbero mai bastate per la moltitudine di fedeli che quel giorno, come ogni altro giorno d'altronde, si era recata a San Giovanni Rotondo per partecipare alla messa e quindi confessarsi e fare la comunione. Le confessioni terminavano quindi e padre Pio si mise a distribuire le particole a tutti i fedeli che si presentavano in fila per ricevere la comunione. Questi fedeli erano davvero tantissimi, numerosissimi e le particole davvero pochissime. I frati si preoccupavano, pensavano che non sarebbero bastate. Invece padre Pio iniziò a distribuirle e non solo tutti riuscivano a fare la comunione, ma addirittura nella Pisside avanzavano delle particole. Padre Pio, grazie all'intervento divino come al solito, aveva compiuto l'ennesimo prodigio. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!